Qui siamo al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, la nuova sede della regione, qui sotto vedete la città di Milano. È sera, siamo nel cielo sopra Milano e le luci della città sono uno spettacolo straordinario. Bene, il 14 febbraio, martedì, San Valentino abbiamo deciso un'apertura straordinaria di questo 39esimo piano di Palazzo Lombardia destinata a tutti gli innamorati che vorranno venire a passare un momento, a fare una visita, a vedere dall'alto Milano e la Lombardia a dirsi di sì o a ridirsi di sì. Vi aspettiamo.